Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere un riscaldamento che solitamente faccio io prima di andare sul palo, quindi è una cosa mia personale, non lo consiglio a tutti perché è più veloce, meno specifico, più generale. Lo uso solitamente quando decido di lavorare sul palo statico, quindi magari non ho bisogno di fare chissà quali spaccate, chissà quali lavori di flessibilità, ma ho più bisogno di andare a lavorare sulla forza, quindi ho bisogno di riscaldare un pochino di più la parte sopra e allo stesso tempo però mobilitare bene il corpo, la colonna vertebrale. Quindi prendetelo più come esempio per vedere, magari prendere spunto su alcuni esercizi. È importante, io solitamente mi scaldo in poco tempo, ora questo video è un pochino più lungo, ho voluto fare altre cose, è importante però abituare il corpo, nel senso che c'è chi ha bisogno di un'ora, c'è chi ha bisogno di 30 minuti, chi di 15. È importante che impariate ad ascoltare il vostro corpo e a capire di quanto tempo avete bisogno voi affinché il vostro corpo sia caldo e quindi possiate andare al palo senza il rischio di farvi male. Buona visione ragazzi! You are in the spotlight, I am hidden Grazie per la visione! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Grazie a tutti Spero che il video vi sia tornato utile, che siete riusciti a prendere qualche spunto su qualche esercizio Lasciate un like, seguitemi sul mio canale e ci vediamo nel prossimo video